Bene, mi hanno dato il via libera, allora grazie a tutti per aver accolto il nostro invito. Questa sera è uno dei vari eventi collaterali che abbiamo organizzato nell'ambito della mostra Creature Fantastiche, ospitata in questa splendida location di Palazzo Assessorile. E' una sede, celebre sede, che ha ospitato in passato una mostra anche della storica dell'arte Silvia Spada Pintarelli, che fu e sarà anche in un futuro probabilmente curatrice di una mostra dedicata all'orso. Quindi, insomma, Silvia è ormai un'amica di Palazzo Assessorile, di Cles, e anche nostra, e io sono particolarmente onorata. Ora, mi servo di alcune righe della biografia, dell'importante biografia di Silvia Spada, che ringrazio tantissimo di aver accolto il nostro invito per parlare del mondo alla rovescia, del mundus inversus, un tema, lei caro, che l'ha tenuta non poco ferma su libri, documenti, e in giro nei vari siti di interesse storico-artistici del Trentino Alto Adige, non solo, per studiare questo argomento e questa sera appunto ce lo illustrerà. Silvia Spada Pintarelli, già dirigente dell'Ufficio Servizi Museali e Storico-Artistici del Comune di Bolzano, è storica dell'arte e museologa. Si occupa prevalentemente di storia dell'arte dell'Alto Adige e del Trentino. Oltre a numerosi iscritti sull'argomento, ha curato importanti mostre dedicate alla storia dell'arte della città di Bolzano e ha collaborato all'organizzazione dei percorsi espositivi del Museo Civico, del Museo della Scuola, del Museo delle Semirurali e del Monumento alla Vittoria della stessa città. Appassionata di didattica, negli ultimi anni ha scritto alcuni libri per bambini, per promuovere la conoscenza di luoghi e oggetti d'arte. E io ho avuto la fortuna di fare un piccolissimo lavoro di impaginazione dei testi bellissimi di Silvia e delle illustrazioni della figlia, Anna Pintarelli, che fa queste illustrazioni bellissime digitali. Insomma, posso dire di aver contribuito anch'io e c'è una mia caricatura all'interno di questi due libri, quindi ne vado fierissima. E aiutare nella comprensione di testimonianza del nostro comune passato in modo semplice e immediato, quindi attraverso un linguaggio che è molto adatto ai bambini, ma che devo dire è adatto anche agli adulti, perché quando io lo leggo alla mia bambina, ogni volta ripasso la storia di Santa Lucia, la storia di San Romedio raccontato ai bambini, dell'orso, questi sono i tre libri, se non erro. Sull'Alto Adige forse non è. No, sull'Alto Adige no. Mi ha fatti anche per l'Alto Adige, no, in Val di Nonno, io dico. Ecco, che sono appunto delle pubblicazioni che aveva promosso anche l'azienda, con l'azienda per il turismo della Val di Nonno. Ecco, quindi ringrazio tantissimo Silvia, non rubo altro tempo se non per dire che la mostra dopo è visitabile, quindi chiunque, voi che siete appunto venuti qui per ascoltare Silvia, potete visitare la mostra, e ricordo, approfitto dell'inizio per ricordare un altro appuntamento, altri due appuntamenti, diciamo di questo, all'interno della mostra, che sono gli animali nell'arte, giovedì 22 settembre, una conferenza cura di Paolo Repeto, una gallerista, che ha scritto anche per il catalogo, sarà qui con noi per parlarci appunto di quell'argomento, gli animali nell'arte, e giovedì 6 ottobre alle ore 20 e 30, sempre Marcello Fogolino ed intorni con Marina Botteri, che tra l'altro ringrazio della presenza perché è qui in sala con noi, Luca Gabrielli di Studi Trentini di Scienze Storiche, e probabilmente si potranno anche acquistare queste due importanti pubblicazioni, la seconda in specifico, su Marcello Fogolino, quindi ci tengo a dirlo perché abbiamo già avuto molte richieste per poter acquistare queste importantissime pubblicazioni. Ecco, quindi grazie, grazie Silvia, e niente, buon ascolto a tutti. Benissimo, ma io devo dire che qui a Cles vengo sempre veramente molto volentieri perché quando ho lavorato mi sono trovata benissimo, mi sono molto divertita, e soprattutto per me è una cosa importantissima, ogni mostra che ho fatto, curato, a cui ho collaborato, mi piace portarmi a casa degli amici, e qui è successo in maniera molto simpatica. Devo dire che proprio mi sento a mio agio, però devo anche dire che la conferenza che mi è stata chiesta questa sera sul mondo della rovescia è una tipica conferenza manzoniana, perché io ho fatto qualche mese fa, ho ricevuto un messaggino da Lucia di sera, di sera, hai voglia di fare questa conferenza? E la sciagurata rispose, effettivamente, sciagurata, perché nonostante il tema mi piaccia molto e lo segua da anni, poi quando si va a preparare, a vedere, a cercare il filo, insomma, si vede che le cose sono molto complicate, molto complesse. Io ho cercato di semplificarle, però vedrete che lascio tanti punti di domanda, e infatti sarei anche contenta poi che la serata di stasera servisse di stimolo poi anche ad altri per vedere se si riescono a chiudere dei buchi abbastanza importanti che ancora restano. Comunque iniziamo subito. Mondo alla rovescia, questa è una copertina messa così perché mi piaceva particolarmente, è comunque un artista che si chiama Bruno Pontiroli e che lavora a Parigi, ma comunque che cos'è il mondo alla rovescia. Innanzitutto è un tema che io credo abbia incominciato a esistere con l'umanità e corra a fianco appunto della storia dell'uomo sicuramente fino ai giorni nostri, perché il mondo alla rovescia è il mondo che noi desideriamo, è il mondo in cui aspichiamo di poter vivere perché libero di tutti i problemi che abbiamo nella quotidianità. In un certo senso anche il paradiso dell'Eden, cioè il paradiso terrestre, è un mondo alla rovescia perché lì vigeva questa armonia assoluta e soprattutto non c'era problema nel procurarsi il cibo che si trovava tranquillamente prendendolo appunto dagli alberi e senza dover lavorare. Questo è un tema molto interessante. Però, dicevo, arriva fino ai giorni nostri, faccio delle citazioni e anzi, e arriva, questo devo dirlo, in tanti modi diversi, cioè attraverso la letteratura colta e la letteratura popolare, attraverso appunto le immagini, attraverso la musica, per cui abbiamo veramente tante aperture, io tratterò poi delle cose molto limitate. Però, appunto, dicevo, anche nei giorni nostri, perché per citare una cosa che nota tutti, il libro della fattoria degli animali di Orwell è la rappresentazione del mondo della rovescia, gli animali che prendono il posto dell'uomo e si comportano come gli uomini. Ma per arrivare proprio ai giorni nostri, chi conosce la serie Netflix Stranger Ties, sa benissimo, scusate il mio inglese, è assolutamente terrificante, ecco, comunque le cose un po' stranette, sa benissimo che il clou della storia è proprio la possibilità di accedere attraverso questa porta al sottosopra, che non è altro che il mondo della rovescia. Per cui effettivamente siamo immersi nel mondo della rovescia e sempre l'umanità è stata immersa in questo mondo. Uno dei temi fondanti e principali del mondo della rovescia è quello relativo al paese di Cuccagna. Qui abbiamo una stampa, scusate, ho alcune foto veramente un po' disgraziate, abbiate un po' di pazienza. Questa è la descrizione del paese di Cuccagna dove chi manco lavora più guadagna ed è la rappresentazione di un mondo dove non si fa assolutamente fatica, tanto è vero che ci sono i volatili, i polli che cascano, ma già cotti, per cui all'interno del piatto, per cui non bisogna neanche fare la fatica di cuocere. Perché questo? Perché è uno degli aspetti fondamentali del mondo della rovescia, è un discorso di compensazione. Che cosa si vuole? Si vuole avere la possibilità di rispondere alla necessità primaria dell'uomo che è quella di essere appunto sazio, di poter mangiare, senza dover avere l'assillo quotidiano di procurarsi appunto il cibo. Da qui nasce tutta la serie del mondo della rovescia dedicata al paese appunto di Cuccagna che avrà una grandissima fortuna. Anche qui è inutile che vi dica insomma Pinocchio, il paese di Bengodi, di Boccaccio, insomma abbiamo sempre questa rappresentazione di questo posto idiliaco dove tutti vorremmo stare, dove ci sono fontane di malvasia, insomma dove si mangia, si beve e assolutamente non si lavora. Direi che una delle rappresentazioni più magistrali di questo paese di Cuccagna è sicuramente questo di Brugge del Vecchio, un dipinto del 1567 che si trova all'Alte Pinacoteche di Monaco. Perché qui vediamo lo stesso concetto ma raffigurato da un grande artista. Vedete questi tre personaggi che sono belli grassocci, quasi non si muovono, anzi non si muovono proprio perché hanno mangiato talmente tanto la roba che veniva appunto dall'alto che sono quasi inebetiti. Ed è questo, diciamo, direi che lo esprime in maniera magistrale, ecco, questa volontà di essere sazi, questa volontà di non dover avere un certo tipo di preoccupazioni. Però se questo è un aspetto della compensazione che ci dà il mondo alla rovescia, ce n'è un altro parimento interessante che è quello del mondo rovesciato per motivi di contestazione sociale. È il secondo filone importante del mondo alla rovescia. Qui abbiamo un libretto che è stato pubblicato nel Seccento in Inghilterra in cui vedete che è tutto ribaltato, c'è questo uomo, fateci attenzione perché poi vedrete che l'immagine ritornerà, no? Con le gambe in su, le mani in giù, poi abbiamo il cavallo che non è attaccato al carretto ma che comanda, la chiesa testa in giù, il topo sta ricorrendo al gatto, il coniglio sta ricorrendo alla volpe, insomma, è tutto un mondo completamente rivoltato ed esprime appunto la necessità, la volontà di una ribellione di tipo sociale, perché questo libretto è stato pubblicato in occasione come protesta perché il Parlamento inglese aveva vietato delle feste tradizionali per Natale. Allora, mai toccare la tradizione alla gente, volevano fare un Natale, diciamo, più solenne, insomma, più legato forse al discorso religioso e la gente appunto protesta con questo libretto che è appunto 1646-1747 più o meno, molto significativo. Così come quest'altra stampa popolare toscana del 1820 dove vediamo rappresentati sia col disegno sia con la sua brava didascolia tutta una serie di situazioni alla rovescia. Cioè, c'è, non so, il povero che fa delle mosine al ricco, c'è, ci sono i maiali che uccidono, sgozzano il macellaio, il cavallo che si ribella al carrettiere, il sole e la luna stanno in mare invece che stare in cielo, ci sono i ragazzini che picchiano il genitore, cioè effettivamente una volontà, diciamo, di ribaltare completamente la situazione. E sempre in Inghilterra abbiamo un bellissimo, ve lo leggete da solo il titolo in inglese, così non faccio la figuraccia di leggerlo male, appunto questo proprio si intitola il mondo alla rovescia e questo è proprio didascalico, no? Cioè sono pagina per pagina la raffigurazione, qui abbiamo l'animale che sta suonando, cioè che fa un'operazione tipicamente umana con poi la descrizione e pagina per pagina è una specie di prontuario di queste cose che avevano un costo molto basso e pertanto aveva una grande diffusione proprio nelle classi di tipo popolare. Nella mostra qui curata appunto da Lucia e da Marcello ci sono un paio di rappresentazioni che si legano direttamente al mondo alla rovescia. Questo è un concerto alla rovescia di un artista direi abbastanza interessante che io in realtà non conoscevo, si chiama Maestro della fertilità dell'uovo perché già chiamarsi così voglio dire è una cosa stupenda perché ha fatto un dipinto che si trova negli Stati Uniti dove ci sono un sacco di uova che si schiudono e escono delle specie di mostri ciattoli. Qui siamo però in un mondo alla rovescia un po' particolare. Qui vedete ci sono gli uccelli e gli animali che fanno un concerto cantano di nuovo un'operazione insomma che generalmente è riservata appunto agli uomini però siamo in un contesto dove l'aspetto di rivolta sociale è effettivamente molto anacquato molto educorato. Questo pittore rientra nella corrente dei bamboccianti che è una corrente di pittura seicentesca dove la committenza in genere nobili, aristocratici il bel mondo aveva piacere di avere questi dipinti che rappresentavano scene di genere scene popolari contadini e così via un po' per il loro diletto e probabilmente anche per il loro divertimento cioè non c'è alla base quella forte sistema di rivolta che abbiamo visto nelle stampe precedenti e in questa serie possiamo anche mettere questo dipinto di Bernardino Deo della fine del Seicento un artista cremonese dove c'è questa raffigurazione di lotta tra gli insetti e i nani ma ancora di nuovo qui c'è questo aspetto come posso dire di divertimento e di piacere di avere delle raffigurazioni un pochino fuori dal comune se dobbiamo pensare però alla massima espressione del mondo alla rovescia per quanto riguarda la cultura popolare dobbiamo assolutamente citare il carnevale il carnevale che non a caso si festeggia il giovedì e il martedì grasso per cui c'è la parola che recupera quel discorso relativo al paese di Cuccagna e dove sono i giorni dove tutto è ribaltato e tutto è lecito quello che normalmente lecito non è e in molti carnevali il clou è proprio il processo al potere io qui ho messo un'immagine del carnevale di Egetman a Termeno che è un carnevale che viene fatto a cadenza biennale ed è uno dei più complessi di tutto l'arco alpino dove ci sono tantissime figure proprio rappresentative del carnevale tradizionale qui vedete il carro dove c'è appunto il vetturino la sposa e lo sposo lo sposo è quello in fondo è l'Egetman alla fine della giornata viene processato in questo processo burlesco tutte le magagne del paese vengono messe letteralmente in piazza e viene fatto questo processo cioè praticamente questo momento in cui il popolo si rivolta e trova una propria libertà e può sbefeggiare impunemente chi comanda tra le varie maschere del carnevale queste secondo me sono molto significative infatti se vi ricordate quello mito che vi ho fatto vedere con i piedi in su queste maschere alla rovescia si trovano in tantissimi carnevali quella che vedete sulla sinistra è sempre dell'Egetman e qui è la donna che porta l'uomo letteralmente con i piedi in su e la testa in giù l'altra maschera che è praticamente la stessa girata è del carnevale di un piccolo paese di Fornesighe in provincia di Belluno dove comunque il concetto del ribaltamento viene tenuto assolutamente presente questo diciamo discorso molto superficiale per un tema estremamente complesso mi serviva proprio per dare un inquadramento generale perché adesso invece vorrei passare alla alla spiegazione insomma dei dipinti di mondo alla rovescia che si trovano nel territorio del Trentino e dell'Alto Adige più o meno per vedere localmente come viene trattato questo tema e il primo dipinto che vi mostro sono questi affreschi datati con una certa precisione 1392-96 che credo siano poco noti perché si trovano sulla torre Burri ad Ala che non è normalmente visibile al pubblico per cui sono effettivamente così abbastanza difficili da poter vedere scovare qui siamo in piena cultura medievale dove il mondo alla rovescia viene in genere rappresentato fatto rappresentare da animali che compiono appunto azioni che sono dell'uomo però con un discorso in più che questi animali sono animali simbolici moralizzati cioè che portano al loro interno nella loro rappresentazione un simbolo e un significato che vuole comunicare qualcosa in maniera indiretta ma nello stesso tempo sono affreschi che dovevano essere compresi quello che per noi adesso è estremamente difficile non abbiamo più le chiavi per poter effettivamente riuscire a capire che cosa rappresentano a quel tempo invece doveva essere una cosa di dominio pubblico questi dipinti di Torre Burri ad Ala li ho potuti studiare su invito di un'archeologa che lavora a Castello del Buon Consiglio Anna Maria Azzolini con cui abbiamo pubblicato adesso uno studio in occasione del congresso della società degli archeologi medievali e presenteremo poi più avanti ad Ala in maniera più approfondita comunque qui ve li faccio vedere perché sono veramente molto interessanti devo dire che io sono la terza che tenta un'interpretazione ma che sono convinta e lo dico veramente davvero cioè credetemi che se arriva un quarto un quinto un sesto un settimo a dare delle interpretazioni diverse non è che la mia la riterrò la più vera io la riterrò semplicemente quella più consola al mio percorso di ricerca e alle mie conoscenze perché qui effettivamente per arrivare alla comprensione di tutti questi passaggi o troviamo in una seduta spiritica il pittore che ci viene a raccontare cosa gli avevano chiesto di raffigurare oppure ci dobbiamo accontentare di così immaginare all'interno dei limiti di ognuno io sono partita nell'interpretazione di questi dipinti dalla posizione che mi è stata fatta notare proprio da Anna Maria Azzolini perché siamo all'esterno di una torre e voi vedete che i dipinti che sono rimasti seguivano un andamento saliente perché probabilmente si arrivava alla porta che in queste torri non era mai al pian terreno ma per motivi di sicurezza era praticamente rialzata e pertanto doveva essere una e poi quello che è rimasto è molto poco ma la raffigurazione ci sono tracce sia al di sotto che dall'altra parte diciamo della parete per cui doveva essere una rappresentazione decisamente importante io sono partita nello studio proprio dalla posizione perché è una posizione che prevedeva il fatto che questi dipinti fossero socialmente indifferenziati uso un termine molto bello usato da Meneghetti che ha fatto un libro che studia in particolare queste cose storie al muro che a tutti consiglio perché è veramente affascinante di affascinante lettura e lui dice questo praticamente dove gli dipinti si vedevano dovevano essere compresi non siamo all'interno di un salone dove c'erano i nobili una certa cultura dove giravano dei manoscritti o dei menestrelli che portavano dei canti particolari eccetera qui dovevano essere compresi allora vediamo che al di sopra ci sono una serie di stemmi che sono quelli della famiglia appunto che abitava lì che erano i Castelbarco probabilmente il committente questo azone Francesco di Castelbarco e lì doveva essere appunto la sua dimora nella città di Ala abbiamo questa rappresentazione di questo cane che è cavalcato da un coniglio che suona una corna musa sotto c'è una tartaruga e poi ci sono due alberi sicuramente questo artista aveva un modello grafico alla base perché questo tipo di impregnazione col bianco che ricorda la pagina la cornicetta rossa la si trova in tantissimi manoscritti medievali cioè non so nei Taquina Sanitatis nel codice di Manesse e così via per cui sicuramente aveva un modello a cui si rifaceva e che cosa può raffigurare questo 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 primo riquadro la mia lettura visto che ci sono due alberi un melograno e un melo differenziati tra loro per cui simboli di fertilità visto che il cane ha il fallo bene in vista che insomma in altre raffigurazioni non viene così evidenziato visto che è cavalcato da una lepre che suona la corna musa rappresentazione che nel Medioevo riporta sempre ad aspetti diciamo di tipo sessuale di lussuria di lascivia e così via visto che ci sono tutte queste raffigurazioni e poi al di sotto c'è questa tartaruga che invece è piuttosto rara nei dipinti medievali ma che in un testo del scritto dopo il 1328 da un frate domenicano viene proprio presa come rappresentazione della verginità di Maria perché il carapace la protegge diciamo dalla contaminazione esterna io leggo qui una dichiarazione di potenza proprio sessuale dell'abitante allora voi direte ma insomma non ci sembra proprio il caso in realtà la morale sessuale del Medioevo è decisamente molto diversa da come ce l'immaginiamo e qui vi consiglio di vedere su Youtube c'è anche un libro che potete leggere molto bello ma su Youtube c'è una lezione splendida di Alessandro Barbero che spiega come noi abbiamo un'idea completamente sbagliata della sessualità del Medioevo e come fosse più che lecito appunto potersi diciamo poterne fare anche un proprio motivo di orgoglio e vanto sul secondo so solo che c'è uno scorpione e qualcosa di nero per cui un riferimento a qualcosa di negativo e il terzo è anche molto interessante perché abbiamo una raffigurazione tipica di un bestiario alla rovescia perché abbiamo sotto una volpe e ci sono tantissime raffigurazioni che la vedono cavalcata da un gallo cioè praticamente la normale preda è la volpe che si mangia il pollo e non viene cavalcata sottomessa da questo uccello e la raffigurazione ripeto si trova in tantissimi in tantissimi esempi però la cosa qua molto interessante è che non abbiamo un gallo abbiamo addirittura un gallo forcello perché è proprio la cresta rossa io me lo sono guardata in tutte le maniere ma è proprio un gallo forcello rappresentato con un'intenzione naturalistica precisa dall'artista perché è un gallo forcello ma la spiegazione che do io essendo un animale molto diffuso in Trentino si potrebbe leggere come la volontà appunto di azione Francesco di dire che lui benché piccolo gallo forcello meno importante certo delle volpi con cui aveva che fare altri nobili di diciamo più ampio potere riusciva con la sua capacità a metterli in riga e poi dal punto di vista storico ma adesso non entro nei particolari questo succederà davvero per cui ripeto con Anna Maria presenteremo poi in maniera più approfondita questo discorso a me ha affascinato e propongo questa spiegazione ma se qualcuno ne ha qualcun'altra io sono prontissima a lasciarmi incuriosire perché non si arriva effettivamente a poter dare una documentazione reale di questo faccio un salto fuori dai confini della nostra zona mostrandovi questa immagine che è più o meno sempre dello stesso periodo del castello di Valvassone l'ho scelta per due motivi prima perché la trovo straordinaria abbiamo un lupo che insegna all'ABC un asino vestito proprio a niera suntuosissima con tanto di pelliccia di ermellino seduto su una cattedra e trovo un'immagine veramente molto bella del mondo alla rovescia ma voglio fare anche un po' di pubblicità al castello di Valvassone che credo parimenti sconosciuto ai più più o meno come Torre Burri ad Ala cioè non molto noto si trova vicino a Spilenbergo ed è veramente affascinante ha degli affreschi del fine 300 del 400 del 500 un teatrino del 700 e adesso stanno restaurando anche altri per cui veramente un luogo che merita questa raffigurazione poi interessantissima perché dagli studiosi è stata letta come di nuovo come una rappresentazione di tipo politico perché i Valvassone hanno nel loro stemma il lupo nero per cui è stata letta come l'asino che cerca di insegnare appunto a leggere al lupo nero e dietro questa rappresentazione dovrebbe esserci un non identificato avvenimento storico però io in realtà ho trovato che esiste una favoletta molto diffusa nel medioevo che racconta come fosse il lupo a insegnare all'asino e a un certo punto viene distratto perché passa una sua possibile preda e pertanto si volta così come lo sta facendo qui in sostanza il discorso morale il lupo perde il pelo ma non il vizio per cui è più che possibile che ci sia un riferimento con la famiglia dei Valvassone ma all'interno di una tradizione che comunque era consolidata era anche scritto cioè il pittore ci voleva aiutare con l'identificazione però credo che la scritta non sia stata letta ancora tornando invece da noi questo è un dipinto direi questo sì piuttosto famoso che si trova in Schlossmos un piccolo castelletto residenziale vicino da Piano e rappresenta la guerra dei gatti e dei topi dove i gatti vengono sconfitti da quelli che sono appunto dall'esercito dei topi che poi li picca insomma li fa fare una brutta fine e questa è una delle rappresentazioni più evidenti del significato appunto del mondo alla rovescia questo dipinto che è verso 1470 è molto interessante per l'iconografia poi ci sono anche nella stessa sale altri dipinti di pari interesse sicuramente però è chiaramente fatto da un pittore diciamo con poca scuola con niente scuola io consiglio penso sempre che sia il figlio del nobile figlio che non cioè non riusciva proprio a fare carriera da nessuna parte diciamo papà ma io voglio dipingere allora ho detto vai dai vai dai quei miei amici che hanno una parete libera su dai dai contentino no a parte fuori gli scherzi è chiaro che è un pittore che non ha una scuola perché nel 1470 si dipingeva in maniera diversa però anche in questo caso c'erano dei modelli e di nuovo dei modelli grafici che dovevano essere diffusi al tempo vedete che l'impaginazione è sempre più o meno la stessa cioè fortemente disegnativa su fondo bianco e se vogliamo trovare un possibile modello non dico che sia questo ma comunque una cosa simile abbiamo questo breviario francese all'inizio del 300 dove c'è in questo caso la guerra dei conigli che riescono a sconfiggere i cani che come vedete come struttura come modo di narrazione è sicuramente alla base di Castelmos questa raffigurazione dei coniglietti assassini è girata tantissimo online per Pasqua non so forse ci siete capitati sopra perché effettivamente qui abbiamo un artista di ottima qualità e le scene sono una più gustosa dell'altra però e qui faccio una piccola digressione questo pittore che non sapeva dipingere a quanto pare era un po' raccomandato perché lo troviamo anche questo almeno a mio parere a Castelbelasi nel corridoio di Castelbelasi dove c'è una raffigurazione che doveva essere in origine piuttosto articolata di questo torneo cavalleresco e qui è molto importante però perché c'è la firma che è stata letta appunto come Wolfgang Rathensteiner Rathensteiner chi era costui non si sa è la data 1464 per cui diventa un documento interessante fra parentesi ricordo ho potuto studiare Castelbelasi io sono sempre qua è inutile da una parte o dall'altra spunto fuori scusatemi ma insomma Val di Nonna ormai conosco la strada per arrivarci ho potuto studiarlo insieme a Fabio Bartolini e di nuovo è stata veramente un'esperienza che mi ha fatto crescere estremamente bella divertente interessante indipendentemente dalle conclusioni a cui sono arrivata che potranno essere anche anche queste messe in discussione se questo pittore non sapeva dipingere però a fondo cioè Casa Bertagnoli appunto abbiamo un artista di ben altro livello Bartolomeos Dirrimer Schneider che raffigura sull'esterno della casa oltre a una rappresentazione della guerra di Troia una serie di animali musicanti di nuovo una rappresentazione proprio tra le più classiche del mondo alla rovescia per cui abbiamo un leone che suona al tamburo un maiale che suona la toromba e una volpe che suona l'organo portativo e probabilmente c'erano anche altri animali riprende Dirrimer Schneider da alcune stampe di Leonard Beck un artista tedesco siamo verso il 1545 e 47 è un artista a mio parere assolutamente fantastico che è stato molto ben studiato negli ultimi anni da Hans Paul Thies che non solo recupera gli aspetti stilistici ma soprattutto l'ambito culturale ed è sicuramente è un artista tedesco che però dissedeva a Bolzano e poi è stato anche un paio d'anni al castello del Buon Consiglio quando c'era proprio il grande canteriere rinascimentale con Dossero Manino Fogolino eccetera ed è un artista che porta avanti dal punto di vista stilistico un discorso di rinascimento tedesco ma con un'acuta vista su quelli che erano le testimonianze invece di tipo italiano che poteva conoscere appunto a Trento a me veramente piace tantissimo e siccome sono un po' maniaca l'ho ritrovato anche sempre a Castelbelasi con un'attribuzione che potremmo discutere in altra sede comunque Castelbelasi per inciso è uno special di scrigno di dipinti con tantissimi aspetti interessanti foto orripilante siamo a casa solda Vigo di Fassa scusatemi credetemi sulla parola questa è un'immagine pre-restauro non ho potuto più fotografarlo non ho avuto più l'occasione dopo dopo restauro ci troviamo in una casa privata e con una parete molto lunga fate conto che più o meno come questa di questa sala con una rappresentazione tutta dedicata alla caccia alla rovescia abbiamo un cacciatore che sta mirando verso una donna che è completamente nuda a parte un cappello in testa e un volatile che le copre le parti più complesse da raffigurare e sta suonando in un corno dando l'avvio alla caccia cosa che le donne non dovevano fare perché non spettava a loro dare appunto i segnali di inizio caccia per cui appunto una caccia alla rovescia con una serie di rappresentazioni abbiamo il bue che atterra l'orso che è quella specie di macchia marrone e nera che vedete poi abbiamo la gallina che assale la volpe la pecora che sbrana il lupo due lepri che azzandano un cane e una terza che lo cavalca per cui una delle raffigurazioni del mondo la rovescia con la caccia che è proprio estremamente diffusa e adesso arriviamo al al problema di questa sera cioè quello che mi ha effettivamente creato tanti grattacapi e siamo di nuovo a Valdenon che come vedete non risparmia certo sorprese in un tema così affascinante siamo a casa Tuna a Reveaux all'interno del quale ci sono tre sale che sono affrescate qui voglio ringraziare due persone in particolare uno Stefano Ziller che mi ha aperto le porte di casa sua mi ha permesso di fotografare di vedere gli affreschi di studiare in tutta tranquillità e non è una cosa proprio così scontata per cui lo ringrazio molto e la seconda persona che ringrazio è Roberto Pancheri perché ha fatto il cosiddetto lavoro sporco nel senso che ha studiato questi affreschi mettendo insieme tutta la documentazione tutto quello che c'era per cui io comodamente ho letto pensavo di cavarmela così insomma leggendo comodamente e poi insomma però in realtà a mio parere su Casa Tuna Revò c'è ancora tanto su cui lavorare le stanze affrescate sono tre una con scene bibliche virtù l'altra con scene di genere con nobili che fanno picnic si corteggiano le solite cose che facciamo normalmente insomma tutti quanti nei nostri giardini ecco una situazione così molto molto piacevole e poi abbiamo questa stanza di cui rimangono tre pareti affrescate la quarta invece è stata distrutta con questa rappresentazione che adesso vi faccio vedere allora vedete un po' la struttura della stanza è quella che vede abbastanza classica che vede nella parte superiore il correre delle grattesche nella parte inferiore invece una finta di appezzeria siamo però nel 1616 e nel 1616 per cui in un periodo dove come vi dirà Marina Botteri quando tornerete tra un mesetto a sentirla visto che lei sta studiando insieme con Luca Gabrielli in maniera molto approfondita il discorso delle grottesche appunto siamo a date sicuramente tarde e con una grottesca che non è la grottesca di Fogolino della scuola del Fogolino cioè molto ben strutturata è molto aerea cosa intendo per grottesca intendo queste raffigurazioni con fiori tralci che corrono tralci vegetali all'interno del quale poi ci sono delle figure ma ripeto è più decisamente più leggera rispetto alle strutturate e molto significative grottesche di Marcello Fogolino comunque è decisamente una raffigurazione che porta questo schema e su questa parete ci sono anche i monogrammi degli autori Baltasar Rester e Jacob Wittner questa attribuzione è appunto di Roberto Pancheri Rester è un artista di cui praticamente non si sa nulla è documentato a Brez nel 1609 deve aver fatto dei dipinti completamente perduti a Meckel mentre Jacob Wittner che è originario della Slesia viveva nell'eremitaggio di San Biagio a Romallo per cui diciamo artisti che localmente lavorano non sono artisti di grandissimo livello sono sicuramente dei ritardatari perché siamo nel 1616 dove di nuovo la pittura era completamente cambiata e si rimane invece su schemi che sono di 100 anni precedenti i committenti sono Giovanni Arbogastro Tunne e Judith d'Arco che come Salvatore Ferrari mi dice vivevano a Castel Caldez giusto? e avevano questa seconda dimora poi invece a Revault e qui vedete proprio lo stemma che è raffigurato sopra la porta adesso avete visto un pochino la struttura generale della sala all'interno di questo fregio seguono una serie di raffigurazioni piccole scenette proprio del mondo alla rovescia e adesso andiamo a vederle sono molto gustose qui abbiamo un lupo vestito di tutto punto con tanto di cappello e pennacchio che sta cucinando in un bel paiolo di lame una scimmia addirittura sta verso il sugo per renderla un pochino più tenere nella cottura insomma una cosa di questo genere questa raffigurazione probabilmente quello che ci vedo io è una lumaca nella parte di sotto dove a caballo abbiamo forse un cane che tiene un bastone da cui pende un salame questo è quello che sono riuscita praticamente a vedere qui invece proprio una cosa classica la lepre che spara proprio nel sedere al 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 cacciatore proprio si deve vendicare di quello che il cacciatore le ha fatto e poi andiamo avanti perché abbiamo una volpe che guida una slitta tirata da un cane all'interno del quale trasportano alcune altri due animali forse le stesse lepri e comunque sono animali di un certo livello perché hanno proprio un colletto molto raffinato per cui degli animali nobilitati abbiamo qui il cacciatore che è stato catturato da due lepri che lo sta trascinando via perché deve ricevere la giusta punizione allora guardate questa la punizione è fantastica perché abbiamo questo cacciatore che è sistemato su questo banchetto gli hanno denutato giusto la parte di sedere necessaria e le stanno dando appunto queste frustrate mentre il re delle lepri con tanto di corona di scettro seduto a gambe incrociate proprio si gode questo spettacolo poi andiamo avanti con queste due volpi che trasportano in barca non ho la più pallida idea cosa ho tentato di tutto ma mi veniva carbone ma proprio sinceramente non ho idea e poi ancora questa raffigurazione di questa lepre con in mano uno strano aggeggio ho pensato andando a farmi una cultura questo tema che sinceramente non pratico potrebbe essere una trappola perché ha una specie di di peso ecco però qui lo dico qui lo nego anche se viene registrato dirò che non l'ho detto assolutamente non 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 lo so non ho idea non è uno strumento musicale sicuramente potrebbe sembrare una balestra però effettivamente neanche quello comunque rimaneremo col mistero e poi anche questa strana raffigurazione di questo uccello con queste tre mosche davanti poi avrete notato io penso che le immagini sono rovinate molto spesso dove c'è l'uomo no e è abbastanza strano che proprio siano cadute spontaneamente tutte quelle parti per cui c'è da immaginare che in un momento successivo qualcosa di queste rappresentazioni che avete visto sono abbastanza particolari non sia piaciuto e si sia andato a togliere l'immagine comunque sono tutte ipotesi così cosa raffigura questa rappresentazione allora noi ce la possiamo tranquillamente cavare dicendo sono belle scenette del mondo alla rovescia dove è ribalcato il ruolo tra uomo e animale l'animale si prende la sua rivincita eccetera e e questo mi piacerebbe però io sono diventata matta quando ho visto questa raffigurazione e qui siamo proprio nel campo delle ipotesi tipo fantascienza ecco perché voi vedete che c'è un puttino ci sono molti di questi puttini all'interno di questi gerali accanto poi a queste figurette vedete questo puttino che tiene in mano un calice lo porta verso l'alto e è una tipica rappresentazione farebbe pensare immediatamente a qualcosa di religioso a tutti questi puttini col calice che raccolgono per esempio il sangue di Cristo che scende appunto dalle piaghe della croce poi sotto c'è quella che potrebbe essere una campanella ma in realtà sembra un campanaccio però tra questo puttino così idiliaco col suo calice verso l'alto al centro abbiamo una raffigurazione stranissima dove c'è un uccello al di sopra di un'asta in cui è infilata una salsiccia allora che una raffigurazione di questo genere sia una raffigurazione di pura decorazione cioè decorativa così mi sembra effettivamente molto molto strano e mi sembra che questi dipinti invece come in genere succedeva abbiano una traccia di significato probabilmente anzi quasi sicuramente dettata dalla committenza perché quando gli artisti andavano a casa di un nobile per dipingere non facevano quello che in quel momento si sentivano ma facevano quello che il committente richiedeva come avete più o meno visto il tipo di raffigurazione fa pensare anche in questo caso che esista qualche modello grafico per cui perché l'impaginazione è sempre la stessa per cui deve aver copiato da qualche parte o perlomeno se non copiato preso spunto questi due artisti poi non sono artisti di così grande livello da pensare che abbiano potuto sviluppare poi chissà quale elementi originali allora io ho cercato veramente disperatamente perché sono curiosa e mi dà fastidio non riuscire a capire le cose e l'unica traccia molto molto labile che ho trovato di spiegazione di un dipinto così irriverente rispetto alla religione perché è di un'irriverenza assoluta è che nella seconda metà del Cinquecento esisteva in Germania un personaggio molto molto particolare che si chiama Hans Sachs che di mestiere faceva il ciabattino però lui realmente era uno dei maestri cantori di Norimberga c'erano questi maestri che componevano poesie brani insomma drammaturgia scrivevano sostanzialmente poesie e così via e che però non potevano essere pagati per questo tipo di lavoro per cui doveva fare il ciabattino e poi il maestro cantore questo maestro cantore è divenne importantissimo scrisse circa 6.000 composizioni più o meno grandi più o meno corte più o meno piccole più o meno strutturate di cui ne rimangono poche ma era conosciutissimo aveva proprio un grandissimo successo e alcune di quelle che sono rimaste sono proprio intimamente legate al mondo della rovescia alcune sono racconti o piccoli aforismi o storielle relativi al carnevale e altri sono all'interno di un testo scritto nel 1530 che ha una farsa che si titola proprio Schla Raffenland cioè il paese della cuccagna come viene detto appunto in tedesco paese delle stupide scimmie no? e all'interno proprio della Schla Raffenland c'è tutta una storia in cui racconta che i leprotti a cui erano stati uccisi i parenti cacciano e uccidono il cacciatore lo uccidono facendo lo spiedo purtroppo qui non abbiamo una rappresentazione dello spiedo però manca tutta una parete per cui non sappiamo e lo uccidono e fanno lo spiedo questo mi ha messo un po' sull'avviso perché effettivamente una famiglia Thun poteva assolutamente avere nella sua biblioteca un libretto di questo genere perché è veramente di grande diffusione e inoltre Hans Sachs aderisce in maniera molto convinta alla riforma protestante e scrive tutta una serie di operette di tipo morale per spiegare quali erano le diciamo la necessità della riforma e le caratteristiche della riforma ora è chiaro che è molto azzardato fare questo tipo di collegamento però è anche vero che sappiamo di preciso che la nivoltà tirolese soprattutto nella prima metà del cinquecento aveva delle chiare simpatie per la riforma e c'erano gruppi di anabattisti molto importanti tra cui per esempio Bartolomeo Sdirrimer Schneider era un anabattista è stato anche imprigionato per questo motivo e così via comunque nella nivoltà tirolese questa tendenza verso la riforma c'era ora qui siamo nel 1616 per cui a date veramente avanzate se fossimo non so cento anni prima il discorso potrebbe essere sostenuto diciamo con più vigore però perché effettivamente ormai siamo date tarde e questi rigurgiti riformistici erano anche qui passati però che una traccia possibile di studio e di approfondimento possa andare verso questa strada e verso le opere di questo poeta così famoso è l'unica piccola spiegazione che io riesco a dare e comunque rimango dalla mia idea che questi dipinti hanno una chiave di lettura che ci è preclusa o per lo meno che adesso fino adesso non si riesce a trovare dal punto di vista stilistico e qui faccio questo faccio questo intervento proprio per la dottoressa Botteri ecco io credo che il modello di riferimento di questi artisti che ripeto cioè sono sicuramente ritardatari per cui usano schemi di tipo manieristico comunque si possa veramente ritrovare nelle grottesche di scuola fogoliniana anche se naturalmente con un'interpretazione diversa e poi a Castelclesso il luogo dove io non sono entrata e di cui non ho materiale fotografico sufficiente per poter proporre uno studio comunque ho decisamente sentito la suggestione in questo fregio che si trova nel cortile interno che voi vedete diciamo in maniera quasi invisibile poi ho trovato una fotografia molto brutta dove però si vedeva meglio dove praticamente appunto siamo sulla scuola di Fogolino dove ci sono queste come posso dire queste grottesche lente ecco queste grottesche più ariose che possono essere servite come modello a quest'artista anche perché all'interno di Castelcless ripeto però io ho lavorato su materiale scarso senza poter vedere si trova questa volta dipinta e poi questa lunetta di cui rimane appunto unicamente la sinoppia che a mio parere può essere sicuramente avvicinata ai due pittori di Casa Tun per cui ripeto in conclusione del mio intervento tanti punti di domanda il tema è molto complesso il tema affascinante assolutamente poi ha tante ramificazioni è un tema però da tenere presente anche perché effettivamente in Val di Non come avete visto ci sono una serie di rifiugurazioni che portano a far capire come la 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 periodo tra 5 e 600 fosse decisamente interessata a questo tipo di di trattazione e adesso finisco e poi se qualcuno vuole prendere la parola per darmi così la sua impressione sarò molto contenta finisco però con un'immagine molto importante significativa di quello che noi tutte ci aspettiamo dal mondo la rovescia cioè libera me corum dell'inizio del 500 dove la donna comanda addirittura la bellissima spada l'uomo fa la calza e sorveglia i bambini e con questo punto ho finito appunto se qualcuno deve farmi domande si deve avvicinare scandire molto bene perché io sento praticamente piuttosto poco qualcuna delle domande vuole no è stata davvero molto vabbè posso parlare anche così risentite è stata davvero molto chiara è bello soprattutto vedere come un storico dell'arte o un ricercatore fa ricerca quindi arriva a raccogliere dalle fonti da quello che vede dall'esame dalle studi e riuscirà a costruire come dire a giustificare quello che dice quello che c'è il fascino dell'arte se non avete domande c'è da più qualcosa di solito no io tanto ho una filosofia potete domandarmi che volete perché se lo so rispondo se non lo so invento per cui non c'è problema cioè per cui tranquilli va bene buonanotte grazie grazie dell'attenzione e della pazienza grazie ancora grazie a tutti sono contenta anch'io grazie a tutti grazie a tutti